Ferre, 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 ho creato la mia prima mappa di GTA V, la vuoi vedere? Sì, certo, certo. Girati, girati, girati! Ma che mappa è, Steph, scusa? Ferre, c'è una rampa, ci sono un sacco di autobus e tantissimi veicoli. Ma che senso, io mi aspettavo qualcosa di bello come quando le faccio io, e invece tu mi fai solo una rampa con degli autobus. Ferre, sai quanto epico prendere un veicolo e saltare con la rampa e superare tantissimi autobus? Lo spero, lo spero che sei molto epico. Non lo sai perché non l'hai mai provato e oggi te lo faccio provare e dirai, Steph, è davvero epico, ok? Questa sarà la frase che direi più tardi, va bene? Va bene, Steph! Grazie! E ragazzi, come va? Io sono Ferre, e io sono Steph e che si chiama GTA V! E oggi siamo qui con questa mappa appunto creata da Steph, quindi Steph, spiegaci un pochettino cosa andremo a fare. Allora, abbiamo una rampa, abbiamo tanti autobus da saltare e tanti altri autobus che possiamo aggiungere. Abbiamo quattro veicoli da provare, la moto, la buggy, la X80 Proto o come si chiama, e infine il Monster Truck, ovvero il veicolo preferito di Ferre. Ovviamente! Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare a saltare più autobus possibili con ognuno di questi veicoli e anche fare una sorta di versus, quindi fare una sorta di olimpiadi. Ferre? Volevo vedere essere efficace nell'investire anche gli Steph, mi sembra giusto come tentativo. Allora, vado avanti con la mia spiegazione perché sono superiore a tutte queste cose infantili, ok? Stavo dicendo che è anche un vero e proprio versus perché noi, ad esempio... Scusa, non ti volevo riprendere. Testeremo... Testeremo questi veicoli. Se il Monster Truck, ad esempio, salta più autobus del buggy, oppure se il buggy vince e tra l'X80 e la moto chi vince, quindi faremo diversi test e diverse cosettine. Mi piace, mi piace. Per ora, dato che abbiamo capito il veicolo del prefetto di Ferre, partiamo con questo e vediamo quanti riusciamo a saltarne. Allora, abbiamo messo sei autobus giusto. Esattamente, Ferre. Dobbiamo testare se riesci a saltarne sei. Sì, secondo te ci riusciamo o non ci riusciamo? Sei, sì. Io ti sto dietro, io ti sto dietro. Vai, vai, vai. Andiamo, massima velocità. Allora, non vedo la rampa, ma dovrei essere dritta. Sì, compare, compare. Vai, 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 vai. Ok, io sto accelerando abbastanza. Oh, sì. No, ma anche... Ok. Abbondantemente si riesce a saltarlo. Allora, tu hai saltato meglio di me, però secondo me... Ovviamente, Steph. Basta, è zitta. Sul Monster Truck, io sono esperto. Sì, certo. Io tutti i giorni, sveglio la mattina, scendo e vado a comprare il pane con il Monster Truck, quindi... Come? Dove lo parcheggi? Fuori dal panificio, scusate. In mezzo alla strada? Certo, dovrò dover parcheggiare, secondo te. Mi sembra giusto. In ogni caso, sei li abbiamo superati, proviamo con sette. Ferre ha detto, oh, sì, lo superiamo. Secondo me siamo al limite del Monster Truck, quindi... Allora, no, forse il settimo no, perché sinceramente il mio salto è stato abbastanza in là, quindi secondo me un altro autobus ci stava. Ok, vediamo, dai, vediamo, 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 vediamo. Arrivo, fai andare per primo, Ferre, ok? Vai, stami dietro, stami dietro, andiamo, 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 inizia a partire, inizia a partire, mi stai dietro. Non voglio stare vicino a te. Ma stai zitta. Guarda che salto che faccio, eh. Dai, dai, questa volta volo tantissimo. Ok, 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 ok. Eh, eh. Eh no, guarda. Oh, ma perché voli? Aspetta, Ferre. Aspetta, 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 aspetta. Perché lo guido meglio di te. Cosa fai in più? Niente. Cioè, allora, io ho toccato l'ultimo autobus e sono passata a malapena. No, io ti dico anche... Tu avevi lo spazio per un altro. Io avevo lo spazio per l'ottavo. Avevo lo spazio per l'ottavo. Allora, io adesso questo ottavo lo aggiungo, però mi devi spiegare cosa fai di diverso. Niente, Stef. Cioè, tu vai dritta e basta? Allora, mi posiziono fin dall'inizio in modo tale da non, diciamo, toccare più la traiettoria. Aspetta, Stef. Eh, non mi fai passata. Scusami, togliti. E niente, vado dritta e salva. Ma non usi neanche shift, control, nulla? Niente, solo dritta, dritta e basta. Andiamo, Stef! Io ho preso più rincorsa, così vediamo se riesco a fare di meglio. Ok. Allora, corro, corro. Dai, Stef, dai, Stef. Intanto ti vedo, eh. Ti vedo, ti vedo. Vai, 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 vai. Ok? No, stavolta non mi ha saltato. Vedi che va a periodi. Guarda dove sono arrivato io! No, è impossibile. Perché io quel settimo l'avevo saltato. Quindi... Perché adesso... Vedi, mi hai portato sfiga. Siete sicuri, l'ottavo invece no. Allora, io voglio sfidare il tuo Monster Truck, che devi scendere anche tu, con la Buggy. Ok? Non lo so, anche la Buggy è parecchio lenta. E quindi... Esatto. La sfida mi sembra abbastanza la pari. Infatti lasciamo direttamente gli otto autobus e vediamo che cosa riusciamo a combinare con questa. Perché, secondo me, va leggermente più veloce, ma è anche più piccola. E quindi potrebbe... Però magari, esatto, contando che è più piccola, prende il volo meglio, capito? Eh, può essere, può essere, può essere. Allora, mi stai a fianco e partiamo insieme? Sì. Ok, dimmi quando sei pronta. Ok, io me la sento. Secondo me ce la faccio, sono più veloce di prima. Vai, vai, vai. Eeeh, cara mia. Io ho preso l'autobus. Ah, vabbè, io sono dovuta andare un po' storta perché c'è il più mezzo. Allora, l'ottavo l'ho superato facilissimo, quindi io inizio a raggiungere il nono, Fere. Vai, 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 vai. In ogni caso, il tuo Monster Truck sembrerebbe il veicolo più scarso. Sì, però non so, perché se avesse accelerato come sempre avrebbe fatto anche l'otto. Io continuo a dirlo, non l'offende. Non lo so, non lo so, di sicuro non avrebbe fatto il nove, sei d'accordo? Sì, no, il nove mai. Il nove non l'avrebbe fatto, quindi se la buggy adesso fa il nove, vuol dire che la buggy è superiore. Vado a cannone, Fere, vado a cannone. Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio. Allora, io me la sento, io me la sento, io me la sento. Devo utilizzare anche un pochettino di regolazione dell'auto per puntare verso il cielo. Vai. L'ho toccato, ma l'ho superato. Uh! Uh! Lo può fare. Allora, dicevo che non è stato proprio un salto giustissimo, perché io sono riuscita a mettere il veicolo così, ha sbattuto nell'ultimo e l'ha superato. Se tocca il tetto e va, è comunque superato. In ogni caso tu l'hai preso di punta, quindi se radizzavi non lo toccavi. Quindi, il nove lo fa e senza neanche provare, siamo già sicuri, che il decimo non lo fa. Ok, quindi, buggy superiore del monster truck. Di due. Adesso vieni qua, di due, esatto. Quindi, sette a nove. Fere, dove stai andando? A rifare un'altra prova. No, 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 non ci serve. No, no, Fere, non c'è bisogno. Lo so che ti diverti. Vabbè, inizia a dirmi questo. Falla, falla, falla. La sto facendo, certo, non ti stavo ascoltando. Vuoi l'X80 o la moto? Devi scommettere su quelle delle due e salto di più. Salta di più. La moto? Ok, allora la mia è l'X80. Siamo a 11 autobus. Ora si fa sul serio. Arrivo a prendere la macchina e vediamo quale delle due è migliore. Ma senti il rumore di quest'auto, quanto è bello. Io l'adoro. Io sono proprio innamorato di quest'auto. Ci siamo. Allora, aspetta un attimino. Sto arrivando, sto arrivando. Vabbè, non possiamo partire assieme. Vai, 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 vai. Parti, parti, parti. Possiamo di sbandare qui. Ok, e Fere mi sa che sono più veloce. Eh sì. Ok, dai. Ci vediamo dopo, Fere. Sono velocissimo. Allora, posso sfruttare l'impennata. Esatto. Ok. E li ho fatti. No, no, no. No? No, no. Davvero. E a quale sei arrivata? Guardami. Ok, quindi. Adesso non lo so di numero preciso. No, vè. Lo stesso quantitativo della buggy. Ho sbattuto proprio di faccia. Vedi qua c'è la mia faccia spiaccicata. C'è proprio la forma della mia faccia. È rimasta? Sì, la vedi? Qua. Ok. E ho sbattuto lì. Io li ho superati tutti ed undici. Allora, mi è sembrato anche di sfruttare abbastanza bene l'impennata. Perché ho fatto anche quel giochino, ho capito? Ok. Allora, io rifai e ti sto a guardare. Vediamo se lo sfrutti davvero bene. Così ti posso dire se l'hai fatto bene o meno. E vediamo se ce la fai. Perché secondo me, almeno gli undici la moto ce la fa. Magari i dodici no, ma gli undici penso di sì. Ok? È partita, signori. Sto sfracciando. Guardatela lì. Guardatela come va. Eccola, eccola, eccola. Adesso impenna, adesso impenna. Non so se ce la faccio. Vai, 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 vai. Niente, sembra questo. Lo vedi? Sembra abbastanza lenta, comunque. Sembra lenta. Cioè, sembra che comunque il suo volo vada abbastanza... Provala anche tu. Provala anche tu. Sì, sì, sì. Prendo anche io la moto e provo perché sono curioso. Vuole fare il volo che tutti ricorderanno. Ecco la massima velocità. L'impennata. E ce la fa, signori. Esatto. E ce la fa. E lo sai, Fere, che sembrava fare l'istante. Ma non è vero. Mi conosci, Fere. Cioè, ma sei rimasto molto più impennato? Eh, sì. Ho rischiato di cadere di culetto, però ce l'ho fatta. Ok? Ma la grande... Ma tu ne fa forse anche altri tre. Forse almeno due. Allora, è il momento di aggiungere. Forse anche tre. È il momento di aggiungere. Vai, aggiungili. Vai, Fere, vai, Fere, vai, Fere. Ti sto dietro, ti sto dietro. Allora, siamo al tramonto che più tramonto non si può. Abbiamo 13 autobus da saltare. Ok. Che sembra, Fere? Nel penultimo ho sbattuto. Fere, ce l'ho fatta. Ma davvero? Ce l'ho fatta. Beh, allora avevo ragione che è più veloce la moto. Ce l'ho fatta. Io riprovo per sicurezza, ma non mi è sembrato che avesse tutto questo slancio per poterli superare. Quindi, ci riprovo. Mamma mia. Allora, bisogna fare proprio il giochettino di impennata massima, super rischioso. Sì, ma le moto, allora, se stai fare il giochettino di impennata. Saltano all'infinito, praticamente. Ti fai tutta la città così, quindi per quello ero sicura che la moto ce la faccia. Allora, sto arrivando anche io. Aspettami un attimo. Eh, vabbè, sei andata. Vabbè, no, torno indietro. Ormai mi ho fatto frenare qui. La facciamo proprio insieme una fianca all'altra? Eh, scusa, questa macchina non frena, è troppo veloce. Eh, lo so. No, Stef, ho paura che... Dai, così, così, così. Andiamo? Via. Vai, vai. Ok. Tanto c'è un sacco di spazio. Eh, sì, 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 sì. Dai. Vai, 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 vai. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo se ce la facciamo. Lo voglio fare, lo voglio fare. Uh! Ok? Ok? Allora, ci siamo toccati. Sì, sì, sì. È stata una pessima idea. Secondo me, io avrei superato il dodicesimo, ma non il tredicesimo. Però te l'ho detto, io sono arrivata nel penultimo, la volta che l'ho fatta da sola. Quindi, non lo so se li supera tutti. Sembra che il suo limite sia al dodici. Prova, prova, vai, 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 vai. 45 secondi della sessione. Buio pesto, ma dobbiamo vedere se la moto ce la fa. Allora, ti sto aspettando i piedi sull'ultimo pullman. Vai. Ok. Ti vedrò arrivare. Vai. Vado. Eccomi. Vai, 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 vai. Ma dai, per uno. Il quindicesimo. Cavolo. Non ci credo che non li supera per uno. Allora, dobbiamo riprovare. Dobbiamo riprovare. Però voglio il giorno, Ferre. Perché voglio la cosa più epica all'ultimo con il giorno. Quindi riaviamo l'attività e proviamo l'ultima volta. Guardate quanto è lunga. Al buio non si capiva. È davvero infinita questa riga di autobus. Ferre, ma ci vuoi provare anche tu? Almeno per provarci. Non è proprio neanche per sbaglio. Dai, sicuramente è giusto. provarci. Provare, sì. Poi non ho detto che ci riesci, ma almeno ci si prova. Allora, io provo a prendermi anche una rincorsa maggiore, ragazzi. Però è fattibile. Sinceramente, guardate dove me ne vado. Voglio dare il tutto per tutto. Ok, vai, Ferre. Fammi sapere, fammi sapere. È esagerato comunque che ti sei preso una rincorsa così grande. Vado, vado. Devo tagliare qui perché altrimenti mi rallenta troppo. Adesso devo iniziare ad andare tutto dritto per dritto. Ok. Niente. Ok, ci siamo. Impenno. Vai, 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 vai. Dai. Cavolo. Ma per due. Sono andato addirittura a peggio. Sì, è difficile. Mi sto arrabbiando. Allora, me ne mancano ancora due. Non lo so. Secondo me è fattibile. Allora, potrei provare ad impennare proprio all'ultimo secondo. Ok, dai, dai, dai. Magari me lo provo anch'io così. All'ultimo secondo. Perché di solito impenno un po' prima. E ho notato che sono più lenta di te. Quindi proviamo all'ultimo. Ok. A cannone. Vai, 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 vai. No, è anche peggio. È anche peggio. Peggio, 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 peggio. Quindi se impenno all'ultimissimo è peggio. Ok. Cosa interessante. Secondo me adesso ci riesco a fare. Tepe va. Massima velocità. Vai, 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 vai. Ci vuole riuscire. Sta arrivando a cannone sulla rampa. Mamma mia. Vuole fare la storia delle moto. Eccolo. Vai, vai. Eccolo. Uh. Hai sfiorato l'ultimo. Allora. No, è fatto. Allora. Non è fatto. Perché ho preso il penultimo e non l'ultimo nel tetto. Pensavo almeno l'ultimo. Però almeno è stato glorioso. Mettiamolo. Nel senso che comunque mi sono fatto. È stato ben tentativa. Esatto. Esatto. Io sono davvero soddisfatto. Ci siamo dati vicini. È stato davvero epico. Ma purtroppo riusciamo a saltarne 15. E non 16. Ciao. Grazie per la visione!